Sì, in questo gioco c'è mia sorella, anche se non ho una sorella, c'è mia sorella che è la nonna, anche se non, anche se mia nonna è di là, di là. Cosa facciamo? Sì, hai appena detto sì, non entrare, se entri ti sparo un fucile proprio dove, dove non, dove te non pensi. Non provare ad entrare, se entri ti sparo una fucilata di quell'atomiche, se provi ad entrare. Ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo, perché c'è un vaso. Provai ad entrare e ti spacco il naso in bocca. Provai ad entrare e ti spacco il vaso in bocca. Provai ad entrare. Ah!